Preparatevi a immergervi in una storia d'amore intensa e travolgente che vi terrà incollati fino all'ultimo istante. Nella seconda stagione di Endless Love, l'amore proibito e tormentato tra Asu e Tufan prende il centro della scena, rivelando come due anime legate dal destino possano essere separate dalle circostanze ma unite dal cuore. Asu e Tufan sono cresciuti insieme sotto lo stesso tetto, protetti e guidati dal signor Haki. Fin da bambini hanno condiviso sogni, segreti e speranze. Tufan ha sempre nutrito un amore profondo e silenzioso per Asu, un sentimento che ha custodito gelosamente nel suo cuore. Ogni sguardo, ogni sorriso di Asu era per lui una scintilla di felicità. Ma Asu, ignara dei suoi sentimenti, vedeva in lui un amico fidato, un fratello su cui poter sempre contare. Con il passare degli anni, Asu si innamora perdutamente di Kemal, un amore che sembra irraggiungibile. Tufan, nonostante il dolore che questo Gili provoca, continua a sostenerla incondizionatamente, mettendo i suoi desideri e la sua felicità al di sopra di tutto. La sua devozione è incrollabile e il suo unico desiderio è vedere Asu felice, anche se non al suo fianco. Ma la vita ha in serbo piani imprevedibili. La spietatezza della famiglia Koskuoglu inizia a tessere una rete di intrighi che minaccia di inghiottire Asu. Accusata ingiustamente di crimini che non ha commesso, si trova di fronte alla prospettiva di finire in prigione. Disperata e senza via di scampo, si rende conto che l'unica persona su cui può veramente contare è Tufan. Vedendo la sofferenza di Asu, Tufan non esita un attimo. «Andremo via insieme», le promette con determinazione negli occhi. «Lontano da tutto questo, inizieremo una nuova vita». Asu, toccata dalla sua lealtà e dalla profondità dei suoi sentimenti, inizia a vedere Tufan sotto una nuova luce. Il loro legame si intensifica e per la prima volta Asu si rende conto che il vero amore potrebbe essere sempre stato accanto a lei. I due iniziano a pianificare la loro fuga. Sognano di partire all'estero, lontano dagli intrighi e dai pericoli che li circondano. Ogni momento insieme è carico di emozione. Camminano lungo le rive del Bosforo, immaginando un futuro diverso. Tufan le racconta delle città che vorrebbe visitare con lei, dei posti dove potrebbero essere semplicemente loro stessi, senza paura né maschere. Ma il loro sogno viene infranto quando Emir, il fratello manipolatore di Asu, scopre il loro piano. Determinato a mantenere il controllo su Asu e a eliminare Tufan, vede nella loro fuga una minaccia al suo potere. Emir affronta Asu, mettendola di fronte a una scelta impossibile. «Se vuoi evitare la prigione, devi liberarti di Tufan», le dice con freddezza. Asu è devastata. «Come può tradire l'uomo che l'ha sempre amata?» La tensione sale alle stelle. Asu è combattuta tra l'amore per Tufan e la paura delle conseguenze che potrebbero abbattersi su entrambi. Tufan, ignaro delle trame di Emir, continua a organizzare la loro fuga, pieno di speranza. «Non vedo l'ora di iniziare questa nuova vita con te», le dice, stringendole la mano. Asu sente il cuore spezzarsi, sapendo che ogni istante potrebbe essere l'ultimo insieme. Emir, impaziente, mette in atto un piano oscuro. Convince Asu a inscenare il proprio rapimento, promettendole che così potrà liberarsi delle accuse. Ma in realtà il suo obiettivo è far ricadere la colpa su Tufan e eliminarlo definitivamente. Asu, sotto pressione, accetta, sperando di trovare un modo per salvare Tufan all'ultimo momento. La scena si svolge in una notte senza luna. Asu viene legata e truccata per sembrare vittima di maltrattamenti. Le sue grida attirano l'attenzione di un passante che accorre per aiutarla. Proprio allora Tufan arriva sul posto, allarmato dall'assenza di Asu. Vedendo la scena, si precipita verso di lei, ma Asu, seguendo il piano di Emir, finge di essere stata rapita da Tufan. «È lui!» grida al passante. «Mi ha tenuta prigioniera!» Il cuore di Tufan si spezza. «Asu, cosa stai dicendo?» chiede sconvolto. Ma non c'è tempo per spiegazioni. Asu fugge e Tufan, confuso e disperato, la insegue nel bosco. «Devo parlarle, capire perché sta facendo questo!» pensa, mentre corre tra gli alberi. Nel profondo del bosco i due si incontrano di nuovo. «Perché?» chiede Tufan con le lacrime e agli occhi. Asu, sopraffatta dal rimorso, gli confessa la verità. «Emir ci ha incastrati!» «Ha minacciato di farti del male se non avessi seguito il suo piano!» sussurra tra i singhiozzi. «Non volevo tradirti!» Ma il tempo è scaduto. Un rumore assordante interrompe il loro momento. Un camion compare all'improvviso sulla strada vicina. Prima che possano reagire, Tufan viene investito, cadendo a terra senza vita. Asu urla, correndo verso di lui. «No, Tufan!» Si inginocchia accanto al suo corpo le lacrime che le rigano il viso. Realizza che Emira ha orchestrato tutto, usando il suo amore per Tufan contro di lei. Il suo mondo si frantuma e il senso di colpa la travolge. «È colpa mia!» sussurra, stringendo la mano di Tufan. «Avrei dovuto proteggerti come tu hai sempre fatto con me!» La tragedia colpisce duramente gli spettatori, che sentono il peso della perdita di Tufan, un personaggio che ha incarnato l'amore puro e disinteressato. La sua dedizione ad Asu era totale e il suo sacrificio lascia un vuoto incolmabile. Asu, devastata, decide di affrontare Emir. «Hai preso tutto da me!» G gli dice con voce ferma «Ma non mi piegherò più al tuo volere!» Inizia così un percorso di redenzione, determinata a smascherare le trame del fratello e a onorare la memoria di Tufan. La storia di Asu e Tufan diventa un potente inno all'amore vero, capace di sopravvivere oltre la morte. Gli spettatori assistono al cambiamento di Asu, che da vittima delle circostanze si trasforma in una donna forte e determinata. Il ricordo di Tufan la guida, dandole la forza di affrontare le sfide che le si presentano. La seconda stagione di Endless Love offre momenti di intensa emozione, alternando scene di profonda tristezza a momenti di speranza e coraggio. L'evoluzione dei personaggi tiene il pubblico con il fiato sospeso, desideroso di scoprire quale sarà il destino di Asu. Mentre la serie avanza, emergono nuovi intrecci e colpi di scena. Asu trova alleati inaspettati e scopre segreti che cambieranno per sempre la sua vita. Il suo percorso non è facile, ma la determinazione a fare giustizia per Tufan la spinge avanti. Gli spettatori vengono coinvolti in un viaggio emotivo che esplora temi universali come l'amore, il sacrificio, la redenzione e la lotta, tra il bene e il male. La storia invita a riflettere sulle scelte che facciamo e su come queste possano influenzare non solo la nostra vita, ma anche quella delle persone che amiamo. Non perdetevi questa avvincente narrazione che vi terrà incollati allo schermo fino all'ultimo minuto. Preparate i fazzoletti perché le emozioni saranno forti e sincere. La storia di Asu e Tufan vi toccherà nel profondo, lasciando un'impronta indelebile nel vostro cuore. Endless Love vi aspetta con nuovi episodi ricchi di suspense, passione e momenti indimenticabili. Lasciatevi trasportare da questa storia straordinaria, dove l'amore è la forza più potente di tutte, capace di superare ogni ostacolo e di illuminare anche i momenti più bui. Sintonizzatevi e unitevi a milioni di spettatori che hanno già scoperto il fascino irresistibile di questa serie. Scoprite se Asu riuscirà a trovare la pace e a onorare il sacrificio di Tufan. Un finale sorprendente vi attende, pronto a sconvolgere ogni vostra aspettativa. Preparatevi a vivere un'esperienza unica, dove le emozioni sono al centro di tutto. Endless Love non è solo una serie, ma un viaggio nel cuore umano, nelle sue fragilità e nella sua incredibile capacità di amare.